Ragazzi, trovate mio padre. Io porterò il cuore di Mara a Kire. Mi spiace se si è arrivati a questo. Chiudete l'aria! L'accesso è vietato. Ehi ragazzi, qualunque cosa Crew abbia messo in quella macchina sembrava veramente agitato. Qualunque cosa fosse a Crew non servirà più. Possiamo dire che al momento non è più intero. Fatti da parte Jack, lascia che sia un vero giocatore a darsi da fare. Baxter, sei proprio un grande animale. Vai colpo, Baxter! Preso! Ma è il colpo! Ma è calda! Ma è il colpo! Ma è il colpo! Vapta! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Forza, Dex. Dobbiamo andare subito al porto sotterraneo. Porterò la mappa del tempo a Kira. Attenzione, viso d'angelo. Il tuo amato eroe tornerà presto da te. Servono rinforzi. Il muro di protezione è caduto. Ripeto, il muro di protezione è caduto. Sabotaggio! È stato core! Lo sapevo! Le teste di metallo mi faranno pezzi! Oh no! Le teste di metallo sono alla porta! Sono un tronco! Sono troppe! Jake! Attenzione, avendo settore 9. Sono il volto di Città Ripò. Grazie a tutti. 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 Ma più tardi amico Continuo a muoverti Andiamo baby Andiamo siamo quasi all'ascensore Sembra che li abbiamo seminati eh ragazzi Liscio come l'olio eh Ora voi siete dei veri cacciatori del deserto Io dico che è venuta l'ora di affrontare il capo delle teste di metallo Ah che trofeo ne verrà fuori Rimetteremo in funzione la vecchia arma di mare Boom Entriamo nel nido Lasciamo cantare le armi Cribbio le faremo fuori tutti Io e voi Spalla a spalla Non ci potrà fermare nel shot Ok ehm Qual è il piano B?